ciao a tutti scusate il mio aspetto ma oggi ho fatto apertura al lavoro e non mi sono ne truccata niente non ho avuto tempo anche perché stamattina ho fatto fatica alzarmi dal letto visto che ieri sera siamo tornati tardi eravamo fuori siamo tornati tardissimo e stamattina ho fatto fatica alzarmi infatti non ora mi devo fare anche la doccia anche se mi sta fatica sono stra felicissima perché fra tre settimane partiamo andiamo in settimana bianca andremo a corvara vedo l'ora che comunque abbiamo comprato la tavola da snow e francamente sì l'abbiamo comprata ottobre siamo già andati a provarla diverse altre volte c'è altre volte siamo andati due volte perché chiaramente non ha neve l'aveva messa poca quindi siamo andati solo due volte poi mi sono fatto altre due tatuaggi a il 10 di ottobre gennaio si 10 gennaio comunque non ve li fa vedere ora perché sono tutti coperti vi stavo dicendo scusate per questo ma qui mi è rimasto il segno comunque fatemi sapere dove un posto magari su a corvara dove possiamo fare la spesa certo tante cose comunque ce le porteremo anche qui da casa perché insomma abbiamo soldi diciamo un po contati